Tra le liste in campo anche il partito pirata europeista convinto che si presenta in 11 nazioni con lo stesso programma. Abbiamo per la Sardegna dei grandi progetti, la continuità territoriale, il digital divide, quindi l'eliminazione del gap di velocità di accesso alla rete fra i paesi del nord e i paesi invece disagiati e questo lo imporremo dall'Europa essendo un partito molto europeista e vogliamo gli Stati Uniti d'Europa e lo porteremo dall'Europa per la Sardegna.